Con il quotidiano Il Centro, a partire da martedì 8 febbraio, per tutti i martedì, ad un prezzo invariato, puoi avere il settimanale Milano Finanza. Da mercoledì 9 febbraio, sempre con il quotidiano Il Centro e sempre ad un prezzo invariato, il quotidiano Italia Oggi. Milano Finanza e Italia Oggi, con il quotidiano Il Centro. Corri in edicola!